Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com Oggi diamo un'occhiata veloce alle poche ma interessanti novità introdotte con iOS 8 Beta 2 Allora ragazzi la prima novità di iOS 8 Beta 2 Se nella prima beta avevamo iBooks preinstallato adesso abbiamo preinstallato anche Podcast Come vedete l'applicazione non può essere rimossa a differenza di altre quindi viene configurata di default da Apple in iOS 8 Beta 2 Poi abbiamo un bug fix importante perché in alcune pagine web alcuni banner pubblicitari rimandavano su App Store senza consenso Adesso questa operazione viene impedita da iOS 8 Beta 2 che quindi rende il dispositivo più sicuro Con iOS 8 Beta 2 viene inserita una nuova funzione nell'app messaggi Così come abbiamo la possibilità di registrare un memo vocale in questo modo e di inviarlo al volo Adesso potremo fare la stessa cosa con immagini e video Infatti trascinando verso l'alto questo pulsante come vedete viene scattata immediatamente una foto Che viene poi inviata al nostro dispositivo o meglio dal nostro dispositivo all'interlocutore Se invece trasciniamo verso sinistra vedete possiamo in questo modo registrare un rapido video E sempre in questo caso possiamo poi scegliere di inviarlo all'altra persona Di default questa funzione viene attivata con la fotocamera anteriore Quindi è pensata più che altro per i selfie o comunque per l'utilizzo di questa fotocamera Ma chiaramente possiamo anche utilizzarla per scattare foto o registrare video con la fotocamera posteriore iOS 8 Beta 2 migliora anche la tastiera Quick Type dell'iPhone Che adesso diventa un po' più precisa e suggerisce soprattutto delle parole migliori Specialmente in italiano in inglese ha sempre funzionato bene anche nella prima beta Mentre in italiano i suggerimenti ogni tanto non erano azzeccati Diciamo adesso con la beta 2 lo sono di più Inoltre la tastiera Quick Type arriva finalmente anche su iPad Dato che mancava nella beta 1 e funziona allo stesso modo Quindi sempre con i classici suggerimenti in alto che vengono però visualizzati in questo modo Sempre su iPad è stato introdotto un nuovo modo per accedere a tutte le pagine aperte sul dispositivo Normalmente si premeva qui e si aveva appunto accesso a questa nuova vista Mentre adesso esattamente come su OS X possiamo accedere a tutte le nostre finestre aperte in questo modo End of continuity sono stati migliorati in iOS 8 Beta 2 Anche se nel mio caso ho ancora tanti tanti problemi Non riesco a collegare iOS con Yosemite E soprattutto l'unica cosa che sono riuscito a fare è aprire un'applicazione ad esempio mappe sull'iPhone E a farla funzionare esattamente così sull'iPad Quindi praticamente ad aprire la mappa in quel determinato punto sull'iPad Semplicemente scorrendo nella lock screen da questo punto verso l'alto Su iOS 8 Beta 2 alcune app riprendono a funzionare correttamente Ad esempio One Password era una delle applicazioni che non funzionava perché si chiudeva all'avvio Questo perché c'erano dei problemi di compatibilità con documenti di iCloud Che appunto causavano il crash immediato dell'applicazione In questo caso con iOS 8 Beta 2 l'applicazione torna a funzionare Come vedete non si chiude Purtroppo questo stesso ragionamento non vale per WhatsApp Che invece non si è mai chiusa su iOS 8 Beta Ma ha sempre il classico problema di FFFI Se scriviamo queste lettere vicine L'app si chiude e appunto la conversazione verrà interrotta C'è poi una piccolissima modifica nel nome di un'app Immagine adesso è diventata foto In realtà è tornata foto perché nelle primissime versioni di iOS si chiamava così Per finire iOS 8 Beta 2 presenta diverse traduzioni in italiano Che non erano presenti nella prima versione di iOS 8 Come potete notare questi menu li avevamo visti nella Beta 1 Erano completamente in inglese così come tanti altri Quindi fondamentalmente iOS 8 Beta 2 diventa leggermente più utilizzabile Dal punto di vista almeno della lettura perché appunto molti menu sono stati tradotti Dal punto di vista della stabilità invece più o meno siamo sui livelli della Beta 1 Quindi non è stabilissimo per ora e ho notato purtroppo un peggioramento della batteria Ora può anche essere che abbia fatto un utilizzo diverso del mio iPhone in questi giorni E quindi il test non è stato scientifico In realtà come sapete non farò test scientifici sulla durata di batteria per le Beta di iOS 8 Perché appunto sarebbero dati molto molto parziali e variabili In ogni caso mi è sembrato che la Beta 2 abbia un'autonomia leggermente ridotta rispetto alla Beta 1 Bene ragazzi quindi queste erano le principali novità di iOS 8 Beta 2 Fatemi sapere cosa ne pensate Vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto Queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicati all'iPhone di Apple Grazie a tutti